Contratto diretto per il rilancio dell'economia locale e l'obiettivo del coordinamento delle opere di Gela che per venerdì 15 aprile prossimo alle 10, nei locali del Teatro Eschilo, ha promosso il primo network del Mediterraneo rivolto ad imprese, artigiani, professionisti e studenti, prevista la presenza tra gli altri del vice sindaco Simone Siciliano e di Massimo Barbieri, amministratore delegato di Enimed. Continuo il lavoro del coordinamento delle opere, non lavoriamo più solamente sul piano sociale ma la necessità di andare a trovare comunità, collegamenti e rete negli altri settori è una delle peculiarità. Il progetto di venerdì 15 totalmente organizzato dalle responsabili del settore economico del coordinamento delle opere Francesco Greco ha questo tipo di obiettivo, coinvolgere imprese, professionisti per creare una rete di sviluppo del territorio Gela è una città abbastanza particolare in questo periodo, difficoltà di lavoro, difficoltà economiche che possono essere superate solo ed esclusivamente con il supporto di tutti, con la comunità delle imprese locali lavorare insieme per lo sviluppo economico della città. L'idea nasce dall'esigenza di promuovere la cultura dell'incontro tra le persone che compongono le imprese Conoscersi, aiutarsi, fare rete sono oggi punti di partenza essenziali per la costruzione di un progetto imprenditoriale serio e competitivo Oggi un po' per come si stanno evolvendo i mercati globali e l'economia occorre fare rete e stare insieme per poter accedere a questo tipo di mercati Per cui nasce l'esigenza che magari finora non c'è stata di fare corpo e di mettersi insieme Come coordinamento dell'opera abbiamo pensato di proporre a tutte le imprese gelesi un contratto di rete che è una forma giuridica riconosciuta allo Stato italiano quindi di promuovere una nuova cultura di impresa basata sull'incontro di queste figure imprenditoriali Siamo convinti che dall'incontro stesso possono nascere opportunità di sviluppo e opportunità di crescita per le singole aziende che poi ne faranno parte